no no niente ma mai l'hai già viste tutte oh hai proprio l'unico personaggio che non hai conosciuto su una razza il grande gatto insieme agli altri 37 ma cos'è nooo no raga no rega no rega ma sono tutti ora basta ci siamo certi ma ci riesce mai su tutti qua non nelle anime su gun cross andiamo ospito dopo va a mangiare la pizza bella questa però di miradas così non lo so no sta sta ricordando vedi vestito da forse stava sognando credo bella questa è una roba e poi c'è l'ultima oh finita questa si ma è king quindi vede tutto giallo che merda mel in godimento tocca a me adesso si fai no la purello ma che t'ha fatto nulla è quello non fa nulla ma questo è ancora il nostro uomo a ma da notare la carta promo e il badge peppe scrivi peppo scrivi in chat e il badge del del video che si sa benvenuti da te hanno preso le foto o è quello che davvero tempo per l'hanno preso vabbè all'ora ma l'hanno presa a te a me vabbè si vabbè sti cazzo è inizio grandissime tagli un altro volta non lo trovi sempre di stessi no questo è la stessa di nuovo questa nuova bella scena bella questa alla prima penso di migliorare la stessa ultima oh se era oro questa non c'era messo oro perché tutte immagina no ma c'è dietro l'oro c'è dietro l'oro c'è dietro beh fermo no è una classica o no perché mi sembravano fossero simboli diversi tipo stelle mi sembravano bella questa è bella questa è bella bella anche questa cerco di metterla più vicino possibile ma questo è il momento prima di quella che vuoi di eh sì bella ci stanno siamo meno tre a testa regalo eh meno tre e ancora mancano tre a me e due a lui non rompe così abbiamo il babbola il bambola abbiamo svegli questo questo sui fanno tempo di sale sub ribando così per tensioni alanzi ma a me servirebbe una di giudice la più bella quella dove c'è con il solo zeldi il grado è vero è ok no io l'ho vestito in un fondo bella e dimmi che oro ma come fanno nel solo questa è bellissima non so perché ma mi dà un botto di di finze di 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 celebri il figlio di serbito se la foresta è bravo questo l'accettiamo l'accettiamo comunque l'accettiamo l'accettiamo tanto anche qui e ora per questo l'accettiamo la stessa identica mando nuovo e poi il grande dubbi l'accettiamo anche le tue no 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 signore davvero questo due me lo dia c'hai il tasto pericolosamente sui chiudi ecco parti spostero vai prima che facciamo casino dottoria tutto la sciacquita sono 9 il socio fortissimo che è dagli stessi di prima e tutto questo non c'era no sì c'era c'era il numero e io me la ricordo si ma è strano vedi quello che fa no su casa perché se particolare non c'era con questo questo simbolo a sopra e si dietro c'è quella firmata allora è la doppia r aspetta doppia r c'era che le metti in fila che fanno una specie di immagini non lo so c'era di già però quando c'era lavoro prima significa che se c'è non è infatti ecco la busta allora giusto al volo non è triste alla chi questa opera non lo stiamo a trovare niente che una carta voglio una gustavo boh abbastanza all'acchi per ora l'ultimo si fa con la god mod no mi dice cosa l'hai rimborsata wizard pronto per una god mod zora tras e fanno chi è di andare da insomma oltroparte è brutta tina devi smettere di mettere sto mouse sulla x lo so che ma purgatorio altro che capisci che ne buona giusta e poi non è oro com'è possibile boh è scatto è scatto da giù ma non voglio un mio mary morta no di socio comunque una mary identificata che è doppia è un erbe ok quindi è una merda è proprio un mary del mio tic tocca abbastanza una merda tocca a messo un giusto che mi ricorda è rimborsato di molto detto non la faccio dalla metà la mente ma fa cosa bene tanto di tutto la lente nega ultime tre pacchetti è una merda di più ma niente sto a fare la god mod non ridere la god mod è perfettamente non ridente oh oh ma bella è un sr come il litz bella questa però del grande vidello ma bello è il pitello ma guarda con tutti i fulmini ma bello con tutti i fulmini ma che cazzo vuol dire oh ma no che sono le niente e fa forse come è meglio odas che merda comunque dopo c'è niente ecco non vedi che lei l'ora dopo chi urla no ma basta studiando avete rotto il cazzo ma come si fa a fattere qui solo mamma mia che merda e bella altra volta lo do che subriano malissimo vabbè niente al lachi al lachi forte ultimo perchetto perquen Con calma Faccio io? Cos'è? Ma che stifo Ma Vabbè che c'è il quintetto dei petrificati Ma che significa? Questa è la mia figa Ecco, fa tante volte Art of X Calibre Vedete, vedete, vedete Ma come ti fai meme? Nooo, cos'è? Nooo, invece è bella lì Si chiudora fuor Mmm Sono innamorato Non questa, questa fa sbucco Aspetta, aspetta No, Power of War Cos'è? E' bellissima E' cazzo stupendo Oh! La mascotte! E' lui! Esistamente dopo di Hulk c'è un'altra Hulk Mi sembra giusto Cos'è? Ho paura Nooooo Troppi ne avete messe Nooo, Minisocchi Che è? Oh! 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 Sopera Che schifo! Che schifo! Ragazzi Abbiamo l'ultima bustina No, no, no! E' mia, è mia, è mia Guarda che clown! E' sta... Se ci fosse, se ci fosse tutta la carta bella e' sta peresimo si Se ci fosse... Se ci fosse... Se ci fosse escalone è sfirmato E' sta peresimo si E' questo clown mai dire mai la speranza è l'ultima a morire perché non moriamo prima grazie l'ultima bustina oh bella non si vede, non si vede, non si vede si può sperare te li guardi dallo schermo come tutti Greyrod, Greyrod Zedri un bel motivo, due bei motivi nooo Zedri Pubix è tutto per te ma nooo grande gloxia la faccia di bantlenza riassuma nooo ma perchè ban che frame storta hanno preso che pacco mamma mia facendo un piccolo resoconto dello schifo che è uscito è per me ragazzi mi la fa regalare ma che ti regalo questa nooo se la puoi riprendere ragazzi se la puoi riprendere ragazzi cioè mi puoi riprendere ma è piuttosto... nooo più o meno riassume l'utilità questa è una brutta facciamo bene abbiamo pullato solamente galand di figo e elisabeth poi il resto era solamente me e che sono praticamente due sr che corrispondono che ce ne sono 30 di sr da poter trovare niente di sr niente triple r niente special e poi abbiamo sciaffattato l'interno box no no le sr si sono trovati e questi due due sole ce ne sono 30 non ho neanche trovato lo zed rischio no cazzo nemmeno un sin ne la triple r ne un cazzo ho trovato nulla di nulla che box de merda 90 euro buttati non è vero almeno ci fai fuoco no mi dissocio guarda come ho queste sono tutte le carte che abbiamo trovato che sono r o doppie r doppie r sono comunque oro che cosa te la posso regalare questa non è... ah questa la volevi... si ti faccio a te si sto cercando di centrarmi questa ti faccio a te questa ti faccio a te lei è molto bella questa ti faccio a te questa ti faccio a me questa è molto bella scherzavo ma non è neanche oro questo è una r questo è oro? esca non era oro dai aperta te hai detto no ho detto esca... ah no quell'altro esca quello che si rompe la camicia non era oro ho detto è vero è vero oh ce la farò ok la posso fare Delsin da notare da quando non mi pulla io ho sciarco sempre cioè da quando non mi pulla scuro sempre ma c'è il duzel di su ma perchè c'è il duzel di su perchè si ma perchè la cosa sta succedendo ragazzi la cosa sta succedendo ragazzi la cosa sta succedendo ragazzi